Proseguendo il nostro percorso musicale, arriviamo al terzo brano. Ma andò vai? Ma a me? No, 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 è sempre la canzone in programma. Ancora di Cana Laurefice e Giovanni Scala. Cantano Luigi Abate e Salvatore Minieri. Ecco, ritornando dalle ferie balneari, il pagliaccetto di quartiere porta le sue novità. Conscio di fallire, mai di cocce, vuol provare le canzoni da ballare che costamente sbaglierà. Ma andò vai? Se la girata non c'erai, il tuo maestro manco te la sa insegnare. Pertanto mando vai, sti movimenti scoordinati, assai confusi e esasperati, fanno un ballo da tribù. Venite tutti qui da me, vediamo se si può organizzare una seduta per salvare il pagliaccetto. Gridando va, vai fuori da sto corto spirito dell'ambiguità. Bisogna crederci di più, perciò restate qui con me, vediamo se si può dalla mania dello stentare e poi salvare il pagliaccetto. Perché si sa che se salviamo lui si salva tutta quanta la città. Ecco quando appare illuminato, un guaio già lo ha combinato e questo fatto nel quartiere già si sa. Dice di essere bravo, di essere forte, che lo è il meglio, ma poi è sempre incavolato perché cosa non si sa. Ma andò vai? Senza coerenza dove vai? Dicendo a tutti che ce l'hai, sbaglando a più non posso. Ma andò vai? Mi sembra un quanto spaisato, bisfrattato, superato, elemento da tribù. Venite tutti qui da me, vediamo se si può organizzare una seduta per salvare il pagliaccetto. Grigando va, vai fuori da sto corto spirito dell'ambiguità. Bisogna crederci di più, perciò restate qui con me, vediamo se si può dalla mania dello stentare e poi salvare il pagliaccetto. Perché si sa che se salviamo lui si salva tutta quanta la città. Perché si sa che se salviamo lui si salva tutta quanta la città.